Ciao, ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi un video chiacchiericcio, un videotag, finalmente sono riuscita a prepararne almeno uno, cominciamo con questo, ed è il videotag che si chiama Il Mio Canale. È un videotag ideato e creato da Bea, del canale Le Gioe di Bea, che ho conosciuto da pochissimo e che ho cominciato a seguire, e quindi la ringrazio, anche se lei non mi conosce, perché lo trovo un bellissimo spunto per conoscere nuove persone anche in maniera più personale e per farmi conoscere a tutti voi magari in maniera un po' più approfondita. E sono stata taggata in questo video dalla mia amica Rita del canale Rita4air, che ringrazio e che saluto. Io qui mi sono preparata tutti i miei appunti in modo da avere sotto mano le risposte, poi sicuramente divagherò, però almeno ho un attimino la situazione sotto controllo. Allora, la prima domanda è, qual è la data di iscrizione del tuo canale YouTube? Allora, ci sono da fare due premesse. Io mi sono iscritta su YouTube come Eli Valsecchi nel lontanissimo 13 giugno del 2010, tantissimi anni fa, perché, curiosa come sono, appunto avevo cominciato a scoprire un po' i contenuti di YouTube, avevo cominciato a seguire delle persone soprattutto per dei tutorial creativi, quindi sul ricamo, sulla maglia, sul cucito, sullo scrub booking, e sono stata per tutti questi anni soltanto una spettatrice silenziosa e nascosta, perché, appunto, mi interessava così ogni tanto andare a guardare qualche canale che era di mio interesse. Poi, l'iscrizione vera del mio primo video è stata il 4 luglio del 2020. Seconda domanda. Cosa ti ha spinto ad aprire il canale? Allora, se partiamo dalla data in cui io ho fatto il mio primo video, arrivavo da un momento molto doloroso e faticoso, perché alla fine del 2019 era morto il mio papà. Per chi magari non mi conoscesse ancora, mio papà purtroppo era stato colpito da un'emorragia cerebrale e quindi è rimasto paralizzato per 18 anni. Quindi è stato tutto questo periodo un momento molto faticoso, se non dal punto fisico, perché io non è che riuscissi a fare più di tanto. La mia mamma faceva tutto, lo seguiva, l'ha sempre assistito. Poi, per le cose magari più materiali, dove non riuscivamo, c'era Paolo, mio marito, che comunque lo ha aiutato tantissimo. È stato per lui un figlio, il figlio maschio che non ha mai avuto e per lui ha fatto davvero tantissimo. Però io, come figlia unica, ho sempre avuto questo carico molto pesante di responsabilità verso i miei genitori, anche perché, per esempio, mia mamma e mio papà non hanno mai avuto la patente quindi io dovevo così un po' correre per tutto quello che era le pratiche amministrative, per quelle che erano la spesa piuttosto che le visite di mio papà e quant'altro. Insomma, chi ha avuto un malato in casa sa bene a cosa mi sto riferendo e poi, ovviamente, il peso psicologico da figlia. E quando è morto mio papà è venuto a mancare un pezzo importante della mia vita. Si fanno i conti con la propria età, si fanno i conti con l'essere figli, si fanno i conti con la mancanza di un genitore, che è comunque inevitabile nella vita, se si ha la fortuna di sopravvivere ai genitori, perché non per tutti è così. E quindi ero veramente in un momento molto pesante a livello psicologico. Non penso di essere stata depressa, e qui me lo dico e me lo canto, ma sentivo anche poi la responsabilità della solitudine della mia mamma, che è venuto lì a mancare quello che era il suo fare di tutti i giorni, si è ritrovata praticamente sola, perché io comunque ho la mia vita, ho la mia famiglia, ho il mio lavoro, tutte le mie attività, i miei hobby, e lei, da donna che ha assistito per 18 anni una persona invalida e ha fatto solo ed esclusivamente quello con tanto amore, si è ritrovata davvero molto destabilizzata. Poi sono cominciate a uscire i vari problemi di salute di mia mamma, e quindi io ero in un momento davvero molto particolare, molto faticoso. In più, alla fine appunto del 2019, febbraio 2020, è iniziata la pandemia, e quindi sappiamo benissimo tutti quello che ci ha, tra virgolette, regalato. Anche se ci ha permesso, io sono una di quelle persone fortunate, ovviamente nessuno di noi fortunatamente è stato male, abbiamo avuto i danni comuni che hanno avuto tutti, quindi lo stare in casa, ma anche riscoprire la famiglia, riscoprire gli affetti, riscoprire la compagnia delle persone che vivevano con noi, e che erano abituati comunque ognuno a fare la propria vita, mi sono anche ritrovata con la possibilità di dare fondo a tutta la mia creatività, proprio perché il tempo per stare in casa era aumentato, si usciva soltanto per andare al lavoro, io fortunatamente non ho mai smesso di lavorare, se non i 15 giorni di chiusura che era stata obbligatoria per tutti, però poi non c'era più nulla da fare, quindi ho cominciato un po' a rispolverare quelle che erano le mie passioni, e non so bene, e non so neanche come, mi sono ritrovata con i ferri da maglia in mano, ed ho ricominciato a lavorare a maglia, perché ero già capace da ragazza, e poi avevo smesso, e ho scoperto nella maglia un mondo completamente nuovo, un mondo completamente rinnovato, che mi è piaciuto tantissimo, e ho cominciato così su YouTube a seguire dei video di maglia, ho scoperto proprio nel periodo del lockdown tantissime amiche, tantissimi canali, tante persone che ho conosciuto virtualmente, ma che reputo delle amiche vere, e in un pomeriggio ho detto, ma dai, ma perché anch'io non provo a così condividere, in questo momento di forte solitudine, magari per tante persone, di anche ricerca di qualcosa, di una chiacchera anche solo virtuale, di un viso familiare, di un viso sereno, perché non mettermi così in gioco in questa maniera, ed è così che è nata insomma la mia avventura su YouTube, e mi ha spinto proprio la voglia di condividere, la curiosità di conoscere nuove persone, di conoscere nuovi hobby, e così è nato il mio arrivo qua con il canale. Qual è il tuo primo video caricato? Allora, il mio primo video caricato è un video dove io sono tremendamente imbarazzata, non che adesso io sia una creators di quelle spigliate, o comunque professionali e preparate, ma nel primo video, se andate a rivederlo, è del 4 luglio del 2020, sono veramente molto imbranata, ed è il video dove io mi presento, cioè disordine creativo numero uno, perché ai tempi volevo appunto dare questo filone, che poi è ancora così disordine creativo, perché io sono un disordine creativo mentale tuttora, e il titolo era chi sono, e lì mi sono un po' presentata. Quarta domanda, qual è il video con più visualizzazioni del tuo canale? Un video che io non mi sarei mai, mai, mai aspettata, ed è stato il video in cui ho fatto lo svuota baure della nonna, avevo ricevuto in regalo dei preziosi manufatti ricamati antichi, o comunque se non vogliamo chiamarli antichi, vecchi, e avevo fatto questo disordinato svuota baure della nonna, ebbene quel video ha totalizzato 8900 visualizzazioni ad oggi, che mi sembra veramente per me un numero grandissimo, se penso che 8900 persone comunque nell'arco di questo periodo ha guardato il mio video, seppur spezzettato, o magari visto soltanto i primi 10 minuti, o il primo quarto d'ora, perché è un video abbastanza lungo, devo dire che questa cosa mi sorprende molto, e mi fa anche capire che c'è ancora questa passione per le cose di una volta, per la tradizione, per il sentire raccontare le memorie, i ricordi, e questa cosa mi è piaciuta tantissimo, perché io anche in quel video ho condiviso come in tutti i video un po' di me stessa. Quinta domanda, qual è il tuo video preferito? Allora, io qua mi sono scritta degli appunti, e ho scritto non ho un video preferito, in ogni video io cerco sempre di mettere tutta me stessa, il mio impegno, e la mia voglia di condividere le mie passioni, i miei acquisti, le novità che trovo, poi ovviamente siccome siamo delle persone umane, c'è quella volta che io sono più brillante, più espansiva, più allegra, più pronta, più energica, a volte invece ovviamente anche da come parlo, perché poi rivedendo i miei video io mi accorgo, sono un po' più smorzata, ma anche perché intorno a me, come persona, c'è una vita, quindi ho una famiglia, dei problemi sul lavoro, il mio lavoro, ho la comunità parrocchiale, i miei bambini di catechismo, i miei impegni, a volte mi sento forte, a volte invece magari sono stanca, ma ho voglia comunque di condividere, e serve forse molto di più a me, anzi non senza il forse, serve a me questo momento di totale allontanamento, non dico dalla vita reale, perché qui non è una farsa stare su YouTube, però quel momento dove tu dici, ok dai, mi prendo mezz'ora di tempo, e questo è tutto per me, e registro un video, no? E quindi devo dire che non ho un video preferito, tutti i miei video mi piacciono, tra virgolette, sì certo, potrei avere più tecnica, potrei avere più preparazione, potrei avere anche del materiale, proprio per registrare diverso, potrei avere un'abilità maggiore, nel fare il video a livello di costruzione del video, ma tutte queste cose non le riesco a fare, ovviamente io ho una vita, come tutti voi, abbastanza intensa, perché comunque ho una famiglia numerosa, con tre figli, anche se uno è lontano, però il mio pensiero comunque, a volte andiamo a trovarlo, ho una mamma anziana da seguire, per il momento non ancora da acudire, ma comunque da seguire, e ho i miei impegni in parrocchia, ho un marito a cui darretta, che è anche fin troppo buono, e quindi tutte queste cose rientrano, nelle mie imperfezioni, che trovate nei miei video, ma mi fa, tutto questo mi fa capire, che siamo delle persone vere, ecco, non mi interessa catturare l'attenzione del pubblico, con una professionalità che non mi appartiene, con una conoscenza che non mi appartiene, io sono quella che vedete tutti i giorni, con le mie interruzioni del telefono, con l'abbaio di Cody, l'abbaiare di Cody quando è in casa, con il citofono che suona, con la luce che cambia, con le inquadrature che non sono perfette, con la mia camera hobby che è disordinatissima, ma questa sono io, e quindi non pretendo e non voglio neanche diventare una creator professionista, perché non è il mio lavoro, e non lo voglio neanche fare, sono molto contenta di avere raggiunto 2.170 iscritti, che per me sono un numero davvero grandissimo, sono anche contenta, e non lo nascondo perché lo sappiamo tutti, che quando si raggiunge un certo numero, e si raggiungono delle visualizzazioni, si riesce a guadagnare qualcosa, non vi dico che ho guadagnato milioni, perché ho guadagnato tipo 100 euro, e questi 100 euro li ho reinvestiti in qualcosa che mi piaceva, e che potevo farvi vedere, e che potevo condividere con voi, ecco, per chi io stessa, quando ricerco qualcosa di professionale, di curato, di ricercato, ovviamente vado sui canali giusti, ci sono persone che lo fanno di lavoro, e sono molto bravi a fare questo, ecco io non lo sono, qui c'è il mio hobby, la mia creatività, con tutte le imperfezioni che fanno parte di me, e queste imperfezioni me le tengo insomma, non è certo questo il luogo dove essere perfetti, nessuno lo è, c'è chi riesce molto meglio a gestire tutto questo, io lo faccio veramente per hobby, quando ho tempo, quando riesco a ritagliarmi quella mezz'ora, all'interno della mia vita, in cui io posso dedicarmi a registrare un video, a mettere dei contenuti. Sesta domanda, un video che ti è piaciuto molto, ma non è stato apprezzato dal pubblico? Allora, io ci ho pensato molto a questa domanda, e la mia risposta è che, non ci sono video che a me sono piaciuti molto, ma non sono stati apprezzati, e devo anche dire che non è che mi interessa tantissimo il numero delle visualizzazioni, proprio riguardo al discorso della domanda prima. Il mio è un canale creativo, e non è un canale monotematico, è partito parlando di maglia, passando poi ai libri, siamo arrivati al make up, siamo arrivati alla skin care, abbiamo parlato di profumi, di candele, di tutorial creativi, mi sono appassionata ai profumi, chissà quante altre scoperte ci saranno da qui a, fino a quando il Signore mi concederà di vivere, e che io vorrò scoprire, vorrò approfondire. Ecco, questo, c'è proprio disordine creativo, io poi non ho più cambiato il nome del canale, perché mi ero iscritta come Elie Balsecchi, e non avevo capito molto bene come fare per cambiare tutto, ma va bene così, Cioè, disordine creativo comunque sono io, c'è questa grande voglia di conoscere questa curiosità, questa voglia di provare sempre tecniche nuove, di scoprire una creatività diversa, e quindi ci sono magari i video, tipo quelli dei libri, che diciamo raccolgono una piccola fetta di pubblico, che sono le appassionate di lettura, e va benissimo così, c'è quella piccola fetta di spettatori, che ama i profumi, e guarda solo i video dei profumi, e va bene così, c'è quella fetta di spettatori, spettatori che poi non mi piace chiamarli spettatori, di amici, che mi segue per la maglia, e vede solo i video della maglia, e c'è invece, una piccola parte di amici, che mi segue per tutto, perché è interessata a sentire tutti i miei video, e quindi va bene così, non ci sono video che mi hanno così particolarmente lasciata delusa, ecco questo, questo è così, anche perché la cosa importante per tutti i video è che questa cosa del creare contenuti mi faccia star bene, mi faccia rilassare, mi faccia trovare quel momento così di serenità, per poter poi ricominciare con più forza, con più vitalità, con più energia nel fare le mie cose nel quotidiano, io qui, lo sapete, in ogni video io non riesco a presentarvi soltanto un profumo, presentarvi gli articoli che ho comprato, le novità, c'è sempre la mia chiacchiera, che fa riferimento a mio figlio Pietro, che è a Edolo e sta facendo l'università della montagna, c'è il riferimento a Mattia, che ha trovato un nuovo posto di lavoro, c'è il riferimento a Lucia, che fa fatica a stare lontana da casa per due o tre giorni, c'è il riferimento a magari mio marito Paolo, quello magari un po' meno, perché poi comunque lui non è neanche scritto e non mi segue, ma comunque c'è il riferimento, cioè io qua sono io, Eli, con la mia vita reale, con tutto quello che mi circonda, con i miei effetti, con le mie emozioni, con i miei difetti, più volte mi avete visto emozionata, se guardate, andate a qualche video passato, dove vi racconto qualcosa che veramente mi emoziona, ma va bene così, ecco, io sono così, non mi nascondo, e so che tante persone mi seguono, proprio perché io sono così, se appunto qualcuno cerca qualcos'altro, davvero YouTube è ricchissima di persone molto in gamba e molto preparate, io qui condivido la mia vita, condivido me stessa, con quello che in quel momento mi piace. Settima domanda, un video di cui non sei per nulla soddisfatto? Allora, diciamo che non insoddisfatta, ma forse i video in cui io più mi preparo, più faccio ricerca, più vado a cercare informazioni, e cerco di prepararmi al meglio, sono quelli meno spontanei, e quando poi io li rivedo, non ne sono proprio così soddisfatta, perché mi sembra un manichino, non vedo quella spontaneità che è parte del mio carattere, e che voi conoscete, perché sono così, e quindi diciamo che non mi lasciano completamente soddisfatta, per esempio, per dirne uno, quello dove mi sono preparata sui profumi, che ho dovuto registrare 70 volte, e poi alla fine l'ho lasciato così com'era, perché sennò continuavo a rifare lo stesso video per 30-40 volte, ecco, e mi sono posta questo obiettivo, se può essere considerato un obiettivo nel 2023, di registrare i miei video, senza una preparazione super lunghissima, i miei video non devono essere professionali, i miei video sono video di condivisione, sono video di emozioni, dove io vi racconto quello che provo, quello che mi ricorda un profumo, come mi sono trovata con un siero, i libri che mi sono piaciuti, quindi è soltanto un'opinione personale, e deve essere vista per quello che è un'opinione personale, è il mio pensiero, non vuole essere un obbligo per nessuno a comprare nulla, a leggere nulla, ma è proprio così, un volere essere me stessa anche attraverso una telecamera, ottava domanda, cosa ne pensi della tua community? Ah beh qui andiamo alla grande, allora la mia community che siete voi, sono delle persone stupende, sono delle persone stupende perché ho avuto e ho la fortuna, di aver trovato persone molto belle, con un animo gentile, un animo pulito, non voglio dire tanti nomi, ne dirò soltanto due, che poi sono le persone che taggerò in questo video, ho trovato delle persone sensibili, attente, sempre molto rispettose, educate, con la voglia di raccontarsi, con la voglia di confrontarsi, ma anche persone che mi hanno scritto in privato, delle loro storie, delle loro preoccupazioni, che si sono confidate, che hanno condiviso con me un pezzetto della loro vita, magari del loro dolore, e questa secondo me è la cosa più bella che il social mi possa dare, mi era capitato anche quando avevo il blog, mi è capitato su Facebook, ci sono persone che mi seguono, che vedono il video, non commentano qui, ma poi mi commentano in privato, e io non chiedo di commentare, se qualcuno se la sente lo fa, chi non se la sente va benissimo così, ma la cosa più bella è quello che voi mi date, non quello che io do a voi, voi mi regalate davvero tanto affetto, ho ritrovato persone che erano anni, che non incontravo più sui social, un nome Antonella del canale Fare e Disfare, ci eravamo incontrate tantissimi anni fa, sempre sui social, con il punto croce, poi ci siamo incontrate di persona quando avevo il blog di cucina ed ero andata a fare una presentazione alla fiera di Bergamo o di Brescia, adesso non ricordo bene, e ci siamo rincontrate per caso, grazie a un video di Elisabetta R, perché lei aveva nominato Antonella di Fare e Disfare, e ho detto, ma caspita, non sarà mica l'Antonella che conoscevo io, ed era proprio lei, quindi ci siamo risentite, ci sentiamo praticamente tutti i giorni su Whatsapp, ed è stato veramente molto molto bello riallacciare i rapporti con lei, scoprire che in questi anni, e dal punto croce, siamo passati alla skincare, al make up a Youtube, e quindi niente, questo è davvero un grandissimo dono, mi spiace per esempio, che ci siano alcune persone che mettono il pollice in giù, ma non per il pollice in giù, perché mi piacerebbe che mi dicessero perché non gli piace il mio video, sempre in maniera educata e rispettosa, perché magari c'è qualcosa che io non vedo, e che non so, che ne so, ho detto una capperata, la luce sbagliata, l'inquadratura che non vi piace, secondo me, se si fanno delle correzioni, o dei commenti, dove si dice quello che non va in un video, non è che dall'altra parte ci si offende, ovviamente se fatto con educazione e con rispetto, il confronto per me è una cosa bellissima, il confronto è quella cosa che mi mette in discussione, che mi fa crescere, che mi fa capire che posso andare oltre, che mi posso migliorare, cioè la correzione fraterna è secondo me una cosa bellissima anche nella vita, cioè se io ho un'amica al quale tengo molto, e per me c'è una cosa che lei sta facendo, che a mio parere non è bella, non mi piace, c'è qualcosa che potrebbe migliorare, io come amica glielo dico, e non mi è mai capitato che dall'altra parte qualcuno si sia offeso, ma perché si cresce, si cresce quando qualcuno, come facciamo una correzione noi con i nostri figli, diciamo guarda, però io magari quella cosa lì la farei in modo diverso, prova che magari viene meglio, a me è capitato che poi uno dei miei figli mi dice, sì mamma è vero, hai ragione, l'ho fatta così ed è venuta meglio, però se c'è questo confronto, questo scambio, ma ben venga, cioè ci fa crescere, mi fa crescere, quindi davvero mi piacerebbe, se qualcuno mette il pollice in giù, che mi dicesse perché l'ha messo, poi magari qualcuno, ci sono in giro quelli che giocano, o qualcuno sbaglia, piuttosto che il pollice in su, mette il pollice in giù, ma va bene, ecco insomma, questa cosa è così insomma, e ho avuto anche la fortuna di incontrare in questo anno passato nuove amiche, come per esempio Stefania del canale Parvana Stefania, di cui vi ho già parlato, e abbiamo anche iniziato una rubrichina insieme sui profumi, una persona che sento molto affine, una ragazza, una ragazza perché siamo ragazze, una ragazza che sento molto affine, e che sento abbiamo un'empatia e delle cose in comune che alcune volte ci sconvolgono, perché abbiamo anche quasi dei vissuti che sono molto molto simili, ecco, e tutto questo davvero è bellissimo ed è veramente molto molto grande, quindi i social sono, se usati in maniera corretta ovviamente, in maniera positiva, sono uno strumento potentissimo e un bellissimo strumento per poter così spaziare nel mondo, per potersi conoscere meglio e per poter condividere quello che siamo. Nona domanda, progetti futuri per il tuo canale? Allora, ce ne sono troppi o forse nessuno, nel senso che mi piacerebbe davvero fare tantissime cose, nuove rubriche, chissà poi appunto come dicevo prima la creatività dove mi porta, cosa mi farà scoprire, mi piacerebbe fare delle videoricette, però non ho l'attrezzatura adatta, comunque devo capire come fare, perché comunque la cucina è una parte molto importante del mio percorso di vita, e anche quello che ho vissuto nel blog non mi piacerebbe che fosse dimenticato, fosse sprecato, mi piacerebbe comunque metterlo così, condividerlo con voi, mi piacerebbe magari condividere delle ricette prese dai miei 300-400 libri di cucina, mi piacerebbe fare nuovi tutorial, mi piacerebbe fare nuove rubriche, essere magari un po' più formata dal punto di vista del make-up, della skin care, quindi magari leggere libri più tecnici per potervene parlare, ma tutto questo poi chiaramente si scontra con quello che è la mia vita quotidiana, come vi dicevo prima, e quindi al momento vediamo quello che riusciamo a fare, comunque siamo qui per farci compagnia, ecco, facciamo questo, teniamo questo obiettivo, ci teniamo compagnia e passiamo dei piacevoli momenti insieme con tutto quello che la vita ci vorrà regalare, ci vorrà far scoprire. Ultima domanda, cioè ultima domanda, ultimo punto di questo tag, è tagga altri creators, e ovviamente io penso non siano stati taggati, o magari è scappato a me, se sono stati taggati non importa, se invece non lo sono stati, io taggo con molto piacere Antonella del canale Fare e Disfare, e Stefania del canale Parvana, Stefania, Stefania Parvana. Io vi ringrazio, spero che con questo video abbiate potuto conoscere un pochino di più la Eli che vedete al di là dello schermo, e ringrazio ancora la creatrice di questo tag, perché l'ho trovato davvero molto molto bello, e appunto che ci dà la possibilità di andare un po' più sul personale delle persone che noi seguiamo. Io vi ringrazio, e vi auguro davvero una buona settimana. A presto, ciao, grazie.